Qui ci sono delle novità rispetto alle ultime partite in cui alla fine sono partiti sempre i titolarissimi, invece stavolta abbiamo almeno quattro novità da Audero, Frattesi, Aslani, Sanchez. Allora la difesa davanti a Audero e Pavard evrà i bastoni, l'unico indisponibile è proprio Acerbi. Dunfris e Carlos Augusto sugli esterni, quindi Di Marco recuperato ma va in panchina. Mkhitaryan l'inamovibile, l'insostituibile per Inzaghi, le ha giocate tutte. Frattesi e Aslani fanno riposare Cialanogwe e Barella. Sanchez è stato scelto a fianco a Lautaro, Arnautovic e Turam vanno in panchina. Queste dunque le scelte di Simone Inzaghi che dà fiducia anche ad Audero. Insomma era avuto un po' di febbre in settimana, insomma era l'occasione giusta anche per fare un po' di turnover anche tra i pali con Lautaro che cerca un gol che manca dal 28 febbraio, ovvero Inter-Atalanta 4-0. Da allora Lautaro si è fermato, sembrava pronto ad andare a provare a prendere il doppio record di Guaini immobile di 36 reti di qualche stagione fa. Invece evidentemente così non sarà, fermo a quota 23, vero? 23, 23. Insomma era andato molto molto bene, anzi non quasi, la media di un gol a partita fino ad allora. E poi si è un po' fermato Lautaro Martinez, che comunque è stato tra i grandi protagonisti di questa stagione interista. Sì, poi devo dire allora in campionato lui sta avendo comunque sempre qualcosa in più dell'anno prima a livello di gol fatti. Nelle ultime era arrivato a 21, adesso a 23, quindi comunque il suo anno migliore. Se parliamo però di gol totali, l'anno scorso era arrivato fino a 28, quindi adesso è a 26 con i due in Champions e quello in finale di Supercoppa italiana. e punta a migliorare ancora i suoi numeri a 128, ottavo nella classifica all time dell'Inter. È iniziata intanto la partita, l'arbitro è Marchetti, al Varce Valeri con l'assistente Varra Serra. Vediamo un po' se il Sassuolo batte un colpo perché potrebbe essere veramente l'ultima spiaggia. che ruba palla a Dunfriss, palla indietro, tiro, gol del Sassuolo. Il gol del Sassuolo, Lorente porta in vantaggio i neroverdi al ventesimo minuto, azione caparbia di Torsvert. Palla al centro, Lorente, quinto gol in stagione. Il nostro cartello che ci racconta del vantaggio del Sassuolo, ecco come cambia la classifica. Sassuolo che sa la quota 29 punti, abbiamo detto sarebbe stato fondamentale una vittoria. Ovviamente c'è ancora tutta la partita da giocare, ma in questo momento qualche speranziella in più il Sassuolo ce l'ha. Troppo, troppo morbida la difesa specialmente di Dunfriss, eh Michele? Male Dunfriss, male Pavard, soprattutto Dunfriss che si è fatto soffiare la palla sulla linea di fondo da Torsvert. Poi Torsvert ha alzato la testa e ha visto in aria di rigore tutto solo l'Orientelli, il centrodestra più Pavard, secondo me, doveva stare più vicino. Una faccia delusa, ho visto deluso, mamma mia come se fosse, ma che te ne frega! No, me ne frega, me ne frega. No, no, ma ti vedo che sei proprio deluso, ma che te ne frega. Ma è lunga, è lunga, siamo solo inizio. Ma è lunga, ma anche se la prende. Ma hanno dei record, da rincorso. Ma quali sono, sti? Ecco, per esempio adesso quello dei clean sheet, con il gol subito, però non è andato via perché l'Inter è a 20, il record è a 21 e dopo di questo ci sono tre giornate, quindi quello è ancora possibile. Poi le partite con gol, l'Inter ha fatto tutte 34 con gol, il record era 30, è già fatto, ma adesso c'è quello di partite consecutive che ha proprio la Juve di Allegri. Non mi frega di dire, io ho fatto i top clean sheet, ma a me non mi è mai fregato niente, anche quando li faceva la Juve con Conte, a me non fregava niente. No, ma mi piace vedere una squadra sempre sul pezzo che possa vincere il più possibile. Ma sì, ma mandali in vacanza. No, loro hanno alcuni l'Europeo e la Coppa America. Vabbè, appunto, hanno altro a cui pensare. E pensa che l'anno prossimo dopo... Mondiale per club. Dopo c'è pure il Mondiale per club. Pensa come arrivano all'inizio della stagione 25-26. Sì, addirittura Lautaro e Turam hanno detto se ci chiama il CT per le Olimpiadi noi ci siamo. Pure, pure. C'era già che c'era stata quella polemica. Attenzione ancora Sanchez, ora Inter che attacca con Dunfris che si deve far perdonare. Vediamo se ne mette in mezzo una buona calcio d'angolo, vediamo se lo dà. Mi sembra che l'ultimo... no, dà la rimessa dal fondo, mi sembrava l'ultimo tocco di Doig. Dunfris che infatti si chiede come è possibile, vediamo un po'. Intanto c'era Sanchez in fuorigioco all'inizio dell'azione, però era andata avanti. Non credo che si batta la punizione, ma l'ha rimessa dal fondo. Non ci fanno vedere invece l'ultimo tocco. Ci fanno vedere che era regolare il gol del Sassuolo, ma questo ce ne eravamo già accorti. Perché, insomma, Doig... No, è stato Doig, non Torsbet, a togliere la palla a Dunfris. Quindi bravo Doig. Una roba tipo Bellanova con l'Empoli. È vero, tipo Bellanova all'ultimo minuto con l'Empoli. Mariana, tanto per non girare un po' il coltello nella piaga. Il tuo amico Marcello... Mi socrivamo tutti i quattro, un altro commentario, quella bellissima partita. Mi ricordava quell'errore che aveva fatto, che era talmente grosso. E vedi, norvegesi, scozzesi, qui i rossi del Sassuolo. Tra Torsbet, che già stava facendo comunque bene. Che ha fatto, tra l'altro, il bel gol a Firenze, ma era il 5-1. E Doig, che può essere un giocatore a tutta fascia, era stato anche un po' seguito dall'Inter, da altre squadre. Perché è un giovane interessante. Qui è stato Caparbi, ha rubato questa palla. E poi Lorentè, che comunque forse prima dicevi che i giocatori possono avere mercato. A parte Berardi, che è infortunato, forse Lorentè. Ma anche lo stesso Torsbet, volendo, è stato uno di quelli che qualcosa in più ha fatto, effettivamente. Ma che fa Lorentè lavarsi i capelli con tutte quelle trecce? Come va? Ma che va a pensare? Io pensavo che stessi pensato attaticamente. Poi tra l'altro, faccio d'attento la domanda, mi pazienza. Proprio tu ti poni questo problema? O non te li lavi? Ma dico, ma proprio tu ti poni questo problema? Ma sì, perché io... A parte che l'unica che c'è la diputata a rispondere è Marianna. Eh, grazie. Che potrebbe avere un problema più o meno simile. Ma anche i capelli ci tenevo, una volta ci tenevo. Tra noi altri tre, insomma... Ma una volta ci tenevo i capelli. No, ma guarda che è da un po' che lo ripeteva, infatti, sottovoce. Di un quesito che si porta avanti da qualche minuto. Bella palla di Aslani per Dunfriss in aria. Il tiro di Dunfriss, palla fuori. Di un niente alla destra di consigli. Non si è fatto perdonare. Tutto so, appunto, si doveva far perdonare. Qui ha avuto un bellissimo assist di Aslani, che in verticale subito, non look quasi, la dà in verticale per Dunfriss, che arriva da destra, ma la ci ha battata. La ci ha battata un po'. La prende proprio la schiaccia, la palla, che va in diagonale, non tanto fuori, ma se la prende bene, qua la metti nell'angolina lontana. Ti interessa che si disperano sugli spalti? Ma via! Un'amichevole! Si disperano. Poi a proposito di tensioni, di disperazioni, parliamo anche di Roma Juve di domani. Quella sì che sarà una partita. Ma quella vale qualcosa. Eh, certo. Ma questa vale solo per il Sassuolo e questi li vedo lì, disperati. Ma che... Però qui se l'ha mangiato, eh, Dunfriss, Luca? Sì, l'ha schiacciata, però credo che abbia leggermente scheggiato anche il palo, insomma. Sì, anche a me ha dato questa impressione. In corsa, come ti viene, ti viene. Se non basta un rimbalzo, comunque insomma... Comunque quando l'Inter accelera... L'Inter all'Ul Sassuolo lo vedo proprio in grave danger. Il centrocampo è un po' diverso, però devo dire che frattesi Aslani, per esempio ricordo Lecce e Firenze, soprattutto Lecce come prestazione, dove se la cavarono molto bene. E oggi tutti e due, tra l'altro frattesi merita di giocare anche di più, però ha avuto davanti, insomma, i Barella, soprattutto Michi Italian, e quindi ha giocato poco, ha segnato anche tanto per i minuti che ha fatto. Nel pacchetto di centrocampisti dell'Italia all'Europeo, considerando adesso l'allargamento della Rosa da 23-26, frattesi lo inserite? Ah, ma stupito, domani mattina. Ma non è che lasci fuori... Ma veramente. Ancelotti. Faremo le debite e valutazioni, poi quando arriveremo in ordore di Europeo, però... Lautaro Dunfris, siamo a limite dell'aria, Michi Italian si torna indietro, e il Sassuolo recupera le posizioni, ora Lautaro, Michi Italian gli dà un bel pallone, sul sinistro il tiro, respinto, ancora Sanchez il destro, la parata di consigli, ma ancora Inter, ancora con Sanchez in mezzo a tre. Vediamo se Michi Italian riesce a trovare la chiave per penetrare la difesa chiusa, invece no. Il Sassuolo è già le corde. Il Sassuolo è già le corde. Io credo Barella, Giorginio Pellegrini, con frattesi che farà parte dei convocazzi. Frattesi è il titolare per qualsiasi squadra. Tra Giorginio e Locatelli si gioca nel ruolo da regista, ma Giorginio è meglio di Locatelli in questo periodo. Beh... Giorginio nell'Arsan sta giocando. Sì, non è che stiamo parlando di un fenomeno. Sì, ma meglio di Locatelli. Sì, perché effettivamente c'è Locatelli in quel ruolo lì. Rimessa di Carlos Augusto, che quasi come un corner corto, palla in aria, respinta dalla difesa del Sassuolo, dovrai provare a recuperarla subito e poi passaggio all'indietro, addirittura a Udero di Pavard, quindi Inter che ricomincia dal suo portiere, 28 minuti, 1-0. Come ha retratto il Sassuolo. Il gol di Lorente al ventesimo, ora Inter che però ha provato a rendersi pericoloso. Abbiamo detto il diagonale di Dumfries di poco fuori e poi questo tiro di Sanchez un po' troppo centrale. Vedrai che ti rispunterà il sorriso tra poco. Sì, sì, la rimonta, la rimonta a Sassuolo. A Reggio Emilia, anzi, per la precisione. Tanti tifosi dell'Inter a seguito anche oggi. Ecco, un altro record, per esempio, sono le trasferte. L'Inter quest'anno ha 14 vittorie e due pareggi. Se ne vince due su tre a Sassuolo, Frosinone e Verona e guaglia il Milan di tre anni fa. Se le vince tutte e tre, lo supera. Oh, ma tutte le sa, eh? Tutte. E sono record, i record, è bello. A memoria, eh? C'era uno che le leggeva una volta qui. Lui invece le sa a memoria. Bravo, Michele. Attenzione, ancora Lautaro, guadagna un angolo. No, rimessa, rimessa dal fondo e quindi niente da fare, rimessa per il Sassuolo. Ci fanno rivedere il tiro precedente. Bravo qua consiglia, anche se il tiro era abbastanza centrale. Di Sanchez. Siamo quasi alla mezz'ora, Marcello. Siamo quasi alla mezz'ora, Marcello. Non me pareggiano già prima della rispogliazione. Eh, ma il Sassuolo, dicevo prima, storicamente per l'Inter è stata sempre una partita ostica. E basti vedere l'andata. Uh, lancio per l'Oriente, qua è bravo, devrai a spizzarla. Infatti l'andata è l'unica squadra che l'Inter quest'anno non ha battuto. Berardi, gol e assist, tra l'altro, in quella partita. Riparte l'Inter, ora con bastoni sulla sinistra, che oggi è arrivato a 200 partite. Record? No, no, no. No, 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 no. 200, no. Siamo lontani. Record personale. Però per essere un 99, proprio in settimana, gli hanno chiesto, ti senti, di dire che puoi fare tutta la carriera nell'Inter? Sì, ma tu te spero. Non ti offendere, no? E lui ha risposto di sì, però. Io apprezzo tantissimo che tu dai tutte queste specifiche, queste cose, ma francamente io, quando le sento, ci aggiungo sempre un bel chi se ne frega, perché sui numeri dici? Un po' invece te vedo che... No, ma dipende dal numero. Ci sono numeri magari che possono essere banali. Poi sai, il conto è... Cioè, dobbiamo cercare di riempire anche una cronaca che io ho restamente su Sussolini. L'unico record che dovevano fare era quello dei punti. Che non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto. No, ma si può fare quello dell'Inter. Quello dell'Inter si può fare quello dell'Inter con i 93 punti. 97 nel 2006-7. Vuoi mettere 102? Vuoi mettere 102? Ah, ho capito. Ma questo va bene, questo perché in realtà vi rimane mangiare. Se non è una soddisfazione Ora il colpo di testa di Pavard che si è inserito di testa, peccato. Ecco, per esempio, il numero di giocatori in gol sono 16 ma Pavard può Carlos Augusto, Biucar ma può arrivare a 20. Ogni intervento ha una statistica. Vedi, basta chiedere. Statisticmente. Basta chiedere. Bastoglia, ancora lui ha messo la palla. Qui era un fuorigioco che era un fuorigioco anche questo. È la seconda volta che lo stesso segnaline non si avvede di un giochi abbastanza palesi. Questo è clamoroso. Però ha visto quello di Cucuilio. Questa cosa che... che lasciano correre il dubbio. Ma qua non puoi avere il dubbio se no cambi mestiere. Ma ormai non li utilizzano talmente mai i guardalini. Ormai si addormentano in campo. Cosa fanno? Sono inutili. Pensa che il semi-automatico nel Mondiale 2026 diventerà completamente automatico. Quindi avranno una serie di telecamere che ti diranno già direttamente nell'auricolare e fuori gioco no. L'arbitro deve giudicare il passico attivo. Il guardalino che guarda quando la palla esce. A quel punto dico che servono più. Ma poi ti metti l'azerale e risolto il problema. Tanto li paghi no i guardalini per l'arbitro? Eh caspita. Togliamoli. Puoi risparmiare sull'assistente di me. Cosa adesso se ci sentono all'aia. Non vedono più niente neanche c'è una rissa a un metro da loro. Il guardalino sta giù con la bandierina li lascia menare. Non gliene frega più niente i guardalini. Non servono più a niente. Perché più che non servono è che hanno paura che qualunque cosa facciano sbagliano. Su le rimesse laterali Nel dubbio forse le rimesse laterali forse No no sbagliano anche lì. Allora fai come alla Macallesi prendi i diritti i genitori sul faccio letto e quando fa l'uscita lo segnalano loro. Eh sì. Ci prova l'Inter Bastoni Mkhitaryan sulla sinistra rinviene Laurentè in marcatura il numero 22 dell'Inter abbiamo detto onnipresente quest'anno scarica su Sanchez che si sta muovendo molto provando a creare superiorità ma ora l'Inter deve tornare indietro perché il Sassuolo stranamente rispetto alle ultime due partite anzi anche di più sta provando a difendersi un po' meglio al 32esimo cioè mamma mia già c'è una differenza tecnica assolutamente evidente cioè il Sassuolo non può pensare di fare la partita per 90 minuti nella metà campo dell'Inter mi sembra che già rispetto alla partita di Firenze sia un altro Sassuolo anche perché ribadiamo le motivazioni tra le due squadre sono assolutamente differenti insomma ieri ho seguito Ballardini la cosa su cui ha battuto tutta la conferenza tutte le domande erano diverse e lui ha risposto la stessa cosa a tutte le domande dobbiamo andare con più giocatori dove l'avversario ha la palla dobbiamo andare con più giocatori perché non l'abbiamo fatto nelle ultime partite oggi evidentemente un po' ha cambiato modulo si difendono a 5 un po' le linee sono più compatte tutte col baricentro basso sta provando a fare un po' di densità in più però rispetto alle ultime Firenze a me Ballardini sembra un Giampaolo più triste però ha fatto delle imprese le ha fatte Ballardini due tre quante ne ha fatte però una postura sempre perfetta Ballardini non so cammina con questa schiena perché si è tolto gli occhiaretti trittissima ha dato lui a quell'età Mighi Tarjan ancora in verticale per Sanchez all'indietro per Aslani Aslani scarica su Lautaro che allarga a destra per Dunfriss il cross è buono attraversa tutta l'aria non c'è nessuno in scivolata a trovarsi di fronte alla porta c'è Sanchez che recupera la palla non la fa uscire in pallo laterale allora Bastoni Bastoni bello il pallonetto per Sanchez ancora in aria ad esterno nessuno che segue ma la palla è un po' troppo in diagonale esce dall'altra parte alla sinistra del portiere va sul fondo quindi nulla di fatto anche stavolta stavolta la palla però messa da Dunfriss che ci stanno facendo rivedere non era male Frattesi e Lautaro qui non si sono fatti trovare molto pronti e poi Sanchez che prova a rimetterla in mezzo in modo maldestro più bella la giocata di Bastoni che ha attivato Sanchez rispetto a questa giocata di Sanchez è l'unico adesso non voglio anticipare gli up and down ma è l'unico che mi sta veramente piacendo anche un po' Aslani poi il resto devono metterci un po' più di cuore Inter che ha provato un po' a reagire ma non grandi occasioni sì un paio quella di Pavard era più clamorosa ma abbiamo detto sarebbe stato annullato per evidente posizione di fuorigioco il diagonale di Dunfriss il tiro di Sanchez centrale ora Inter prova ad alzare un po' il baricentro ma abbiamo detto anche le motivazioni del Sassuolo sono importanti quasi un'ultima spiaggia meno 5 dalla salvezza deve vincere provarci con tutte le sue forze Inter che però non ci sta adesso con Dunfriss Sanchez che però fa un po' di confusione stop sbagliato prova Pavard a ributtare la palla dall'altra parte subisce fallo vediamo se Marchetti è di questo avviso sì mi sembra proprio che sia punizione per l'Inter ce lo fanno rivedere anzi De Vrai che prende un pestone dall'Oriente che è andato in pressing in avanti e quindi punizione per l'Inter 38 minuti sempre 1 a 0 manca un po' la velocità nell'esecuzione anche se un paio di palloni interessanti tra Aslani e lo stesso Dunfriss in mezzo sono arrivati ma non la prontezza in aria andare a permettimi il paragonio Michele sembra un po' il primo tempo comunque che abbiamo commentato la scorsa settimana con il Toro sì è vero sì è anche una questione di motivazione quindi fra un po' ci pensa l'arbitro non ti preoccupare eccolo volevo dire il Sassuolo il Sassuolo lo sai che il Sassuolo anche vincendo va a 29 punti meno 2 quindi sì è in corsa sì tu dici le altre ci sono scontri diretti c'è Empoli Frosinone Cagliari Lecce no deve vincere e sperare ma se non vince si stacca veramente in modo complicato anche perché le altre sono tutte squadre che stanno facendo punti ma per me non vince stasera con Luca lo strano paradosso di Mimo Berardi che impredicato di andare via da Sassuolo praticamente a ogni sessione di mercato estive invernale ha subito questo brutto infortunio e di fatto è praticamente credo invendibile nell'estate in cui il Sassuolo magari si ritrova scusa Francesco prima della risposta di Luca seguiamo questa punizione della tre quarti perché Sanchez sta per mettere un pallone in mezzo potrebbe essere una buona occasione siamo al quarantesimo Sanchez che studia un po' il piazzamento con Frattesi a Lecce gli aveva fatto il movimento di andare ma quella era palla in movimento qua è palla inattiva vediamo vediamo se i giocatori dell'Inter fanno questo inserimento giusto con Bastoni Carlos Augusto ci sono tutti in aria palla che spiove Dunfriss anticipato un giocatore che sta solo a terra ma Marchetti dice che si può proseguire Aslani crossa dall'altra parte Dunfriss che provava a mettere in mezzo poi alla fine la mette verso la porta palla sull'esterno però non è stato un brutto colpo di testa vediamo un po' se Dunfriss poteva fare meglio due mani sulle spalle anche in questo caso si spinge anche un po' ma secondo me la doveva mettere in mezzo ha provato a dire in porta lo sai no? Bonfi no sarebbe stata da eventualmente un'altra partita che mi ricordo l'ultimo pareggio del Cagliari a Milano con l'Apadulo che fa l'assiste col Braggio dicevamo di Berardi Berardi è colpa sua perché non ha mai fatto più di tante pressioni col Sassuolo quando ha avuto le opportunità di mercato per andare via però la scorsa estate sì perché ti ricordi che addirittura lo misero fuori Rosa durante il ritiro che lui a un certo punto non si presentò ma era contestato dal pubblico c'era stata la lite fuori dallo stadio e che voleva andare a Juve era già un pochino tale mi so per certo che venendo dalla Fiorentina Pioli per due stagioni aveva chiesto Chiesa prima e Berardi poi Berardi per due stagioni Emiliano è andato avanti a lungo ma di fronte alle resistenze del Sassuolo sarebbe stato decisivo il fatto che lui a un certo punto andasse alla dirigenza e diceva vabbè io quello che dovevo fare è quello che ho fatto ma lui ma lui dice che è andato anche nell'estate dell'europeo l'altro che ha detto io ti mando se mi danno quant'era 30 milioni che voleva non in Milan però non era più forse anche 40 era la Juve 30 30 30 eh ho capito però se sei tutti in pubblico e la Juve gli disse no cioè io ho 30 milioni ma ci mancherebbe altro infatti e quindi sì è peccato per lui e per il Sassuolo che come hai detto tu proprio quest'anno il diavolo ogni tanto fa anche i coperchi e quindi lo mette sulla pentola sì anche perché poi penso che sia vendibile lo è chiunque ma certamente è un giocatore che rientra da un infortunio serio come l'ortura di un tendine d'Achille da una squadra retrocesa il tiro la deviazione palla che cambia completamente direzione dovrebbe essere calcio d'angolo infatti così è e qui Consiglia che ha battezzato il palo una partita stregata una partita stregata stregata per ora stregata ma c'è ancora tanto tempo c'è ancora tanto tempo e quindi si può andare a ribaltare ricordo per esempio un inter bruttissima a Corsassuolo fuori casa un anno poi entrò Geco nel secondo tempo riuscì a ribaltarla chissà che possa finire 1-2 come quella volta Sanchez chiama lo schema dalla bandierina palla poi alla fine era soterra per Aslani che gliela restituisce ancora Sanchez alza troppo questo spiovente in aria ancora colpo di testa palla che va sul fondo vuole il calcio d'angolo De Vrij dice di no il giocatore del Sassuolo è rimessa dal fondo applaude Torsvert dice sì questo cornere è stato proprio sprecato c'ha poco d'applaudire Torsvert visto che l'ultimo a toccare è stato lui ed era calcio d'angolo con la spalla era corna ha avuto coraggio insomma a cercare di imbrogliare c'è riuscito perché forse non si è nemmeno accorto che la palla l'ha toccato la spalla dice Lautaro ecco Lautaro sta dicendo appunto non hai visto che la palla era lì Lautaro parla sempre con gli arbitri è capitano sai il suo compito era un calcio d'angolo che non è stato dato con Marchetti non benissimo e i famosi assistenti che possono aiutarlo che non intervengono ma dorme quello dorme eh sì sonni profondi allora Sassuolo ora in avanti calcio di punizione per il Sassuolo no dà il vantaggio l'arbitro perché Sassuolo ancora il possesso e quindi in verticale Dunfri che qua stavolta chiude bene poi Audero che è pressato allora deve spazzare via in fallo laterale 43 minuti 1 a 0 per il Sassuolo in corsa ultima occasione di questo primo tempo tanti tifosi dell'Inter che si stanno facendo anche sentire si sentono di più loro che i tifosi del Sassuolo Dunfri in aria la spizzata di Pavard palla che arriva a Sanchez che l'apparecchia per Carlos Augusto e il tiro deviato ancora il tiro e il gol di Lautaro Lautaro Martínez gol dell'Inter che la riprende all'ultima azione Capardia in questo caso l'Inter a cercare a tutti i costi il tiro in porta nell'ultima occasione prima Pavard poi Sanchez molto bravo a metterla a terra per Carlos Augusto tiro spizzato deviato quindi non ci può essere fuori gioco e poi Lautaro che torna al gol l'abbiamo chiamato dal 28 febbraio che non segnava arriva a 129 con la maglia dell'Inter a 24 in questa stagione e continua a inseguire i vari record Sassuolo 1 Internazionale 1 all'ultimo respiro del primo tempo l'Inter la rimette in piedi segna per la 35esima giornata consecutiva avevo detto che prima di andare negli spogliettori pareggia avanti l'hai sentita questa c'è un check in corso perché in realtà tu dici non è può essere una deviazione non giocata siccome non è una giocata potrebbe è vero è vero non avevo considerato questo anche secondo me perché non è una giocata può essere fuori gioco io non avevo pensato che la deviazione è giocata invece in effetti no per me sembrava Ferrari che lo tenesse in gioco se non è una giocata allora sul tiro adesso lo rivediamo Carlos Augusto tira su questo tiro la mia impressione è che sia no 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 cosa no è sicuramente una deviazione non una giocata se lo devia è una deviazione non è una giocata e quindi bisogna valutare la notizia di Lautaro sanare l'eventuale posizione di fuorigioco di partenza qua non si capisce allora è fuorigioco no no rispetto all'area piccola a me sembra un passo avanti Lautaro Martinez però sì anche a me diciamo l'impressione è un po' più che sia oltre al momento del tiro secondo me è già un po' avanti è evidente che non possa essere una giocata perché il difensore del Sassuolo la devia solo la devia e va a mettere una gamba giusto per frapporsi e per contrastare se vogliamo quindi comunque è millimetrico perché stanno perdendo tanto tempo sì sì no ma infatti il problema non è tanto il fatto è se in partenza c'è o non c'è eh no qua mi sembra di sì io pensavo che Ferrari lo tenesse in cani purtroppo qua mi sembra di sì ok dice Marchetti in gioco ma non Lautaro dice quindi mi sa di sì perfetto sì sì mi sa che è fuorigioco ragazzi fuorigioco fuorigioco no ma ragazzi annullato mi sembrava abbastanza Michele ci spiace mi farete la presa si resta su 1-0 Lautaro torna a 128 a 23 guarda qua eh aspetta un attimo sul tiro no qui non si vede no ma è vero c'è l'inquadratura dalla porta si capisce che sembrava di più poi vedremo quando arriverà la famosa linea così poi ci faranno vedere tutto per benino non altro in granno quello della linea capire di quant'è di quant'è in fuorigioco ma il motivo è che sul tiro di Carlos Augusto c'è sì il tocco di un giocatore del Sassuolo ma essendo una deviazione quindi un tocco totalmente fortuito e casuale e non una giocata cioè il tentativo di giocare il pallone di fatto non va a sanare la posizione di Lautaro Martinez che dunque è in fuorigioco primo tempo che finisce in questo momento non avessero già vinto il campionato magari questo ma il fuorigioco è una cosa oggettiva Marcello è oggi no no non è oggettiva non scherzare no 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 dopo i fuorigiocchi geografici politici ma lì valutare attivo passivo è un altro discorso è quello di Cucueggie che è stato un fuorigioco per il pubblico c'è uno con la maglia bianca non mi dire Cucueggie non l'ho ancora capito perché l'ha annullato non l'ho ancora capito anche quello semiautomatico non è perché tu dovresti veramente avere il centesimo di secondo in cui parte il pallone e poi calcolare il fuorigioco sì sì nel cento per cento io mi ricorderò tutta la vita un gol di Cristiano Ronaldo con la Juve a Parma annullato per l'unghia del piede è un gol che mi è rimasto a Parma sì a Parma fu annullato un gol a Cristiano Ronaldo non mi ricordo come è finita la partita ma credo che vinse la Juve per una cosa ma quest'anno ce ne sono stati abbiamo visto quelli di mezzoginone ce ne sono stati che venne annullato un gol perché lo scarpino di Morata era leggermente ma a questa quello no mi ricordo quello lì ma se vuoi dopo il fuorigioco geografico ma guarda che ne sono stati ne abbiamo cominciato e tanti quest'anno è stato uno di Ken che mi sembra di Ken che sia a Verona Gol Verona in casa Gol Verona 2 ma nella porta di destra il campo nella porta di destra che fu veramente anche inter Verona e gli ultimi quelli di Ciucuezze credo forse addirittura entrambi a Sassuolo veramente per niente tutto e due mio vecchio cavallo di battaglia la necessità di riavere la famosa luce tra attaccante e difendente perché poi si dirà eh ma se è un millimetro eh però è un millimetro più tutto il corpo che va avanti esatto è meglio annullare cioè un gol così ma tu fuori gioco me lo devi dimostrare cioè il vantaggio del giocatore che lo prende sull'avversario me lo devi dimostrare certo no Ciucuezze veramente è fantasma e non cito tutti i casi della Juve cito quello perché me lo ricordo proprio come se lo ricorda adesso Luca no è vero francamente sono ancora lì con l'immagine in cui mi sembra che si è in linea con il giocatore del Sassuolo e non vedo niente ma mi dicono è fuori gioco e ti devono convincere che è fuori gioco assurdo va bene finito il primo tempo con il gol annullato a Lautaro Martinez per cui si resta sull'1-0 per il Sassuolo per ora decidere il gol di L'Oriente con l'avete vista la classifica il Sassuolo che per ora si porta a casa tre punti molto 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 preziosi nella lotta per la salvezza qui dal Sassuolo a 29 al Cagliari a 32 sono tutte lì sono tutte lì ragazzi e forse anche il Lecce a 36 non è ancora sicurissimo considerando che ci sono compresa questa 12 punti di disposizione e poi c'è Cagliari-Lecce soprattutto c'è Cagliari-Lecce se il Lecce dovesse perdere e il Cagliari automaticamente vincere vabbè Lecce ormai secondo me è abbastanza e però sai dipende cosa fanno dietro se il Cagliari batte il Lecce nello scontro diretto a Cagliari trovi il Lecce a 36 il Cagliari a 35 e dipende cosa succede dietro perché poi insomma metti che vinca l'Udinese che sarà a 32 insomma la forbice si assottiglia perché si fa un gran parlare della corsa all'Europa ma poi c'è una corsa anche per salvarsi che è veramente entusiasmante e coinvolge un mucchio di squadre 8 squadre altro che assolutamente sì gli up and down chi sa le chi sceglie dell'Inter del primo tempo Michi tra l'altro quest'anno si farebbe andato e ritorno lo spareggio hanno cambiato questa cosa qua in fase di salvezza cosa? mentre lo spareggio eventuale l'anno scorso Spezia Verona è stato secco mentre per lo scudetto addirittura hanno messo che si fa in casa di chi ha lo scontro diretto a favore cioè hanno cambiato va beh allora up and down io metto comunque un bel voto a Bastoni perché mi è piaciuto molto parto dagli up quindi Bastoni 7 quasi tutti i palloni pericolosi in aria sono quasi tutti i suoi che gioca in difesa ma sto facendo ancora una volta l'esterno l'ala dietro non era colpevole nel caso del gol quindi 7 a Bastoni e do 6 e mezzo a De Vrij De Vrij e basta 6 e mezzo poi do 6 ad Aslani mi è piaciuto per un paio di palloni interessanti ma 6 Lautaro non lo metti nonostante le due il gol annullato e quello in scivolata che poi è andato esterno no perché insomma però è l'unico che ci ha provato sì in quei due casi uno è fuori gioco l'altro ha la presa di punta però non cose eccezionali io metto nei down ovviamente Dumfries Dumfries per forza anche se però poi dopo ha creato un pedo sì ha creato però non ti puoi addormentare così vabbè ma Nini è andato via di forza 4 e mezzo Dumfries sul gol c'era sulla coscienza quasi tutto lui un po' anche Pavard che non chiude sull'Orientè poi Pavard ha fatto delle buone cose in avanti però gli do 5 e mezzo perché insomma nella marcatura a volte diciamo è molto più bravo a impostare 5 e mezzo per lui e poi uno voglio dare un altro 5 e mezzo un giocatore che gioca diciamo l'ho finito di dire prima che rispetto ai minuti giocati ha segnato spesso però oggi nel fraseggio nel possesso nella qualità mi aspetto che faccia bene che frattesi che gioca poche volte dal primo minuto primo tempo così così 5 e mezzo anche per lui quando parte dal primo minuto non rende mai come quando subentra vero? lui è bravo senza palla a inserirsi ce l'ha proprio innata questa bravura questa caratteristica questa qualità invece se se devi scardinare la difesa e deve essere lui che deve tenere un po' più il passaggio preciso poi è vero che l'allenatore gli chiede di inserirsi mentre Aslani e Mkhitaryan sono i due che devono tenere palla quindi magari anche un po' il dettame però gli inserimenti di oggi non sono valsi a niente quelli di frattesi tutta la mia carriera direttantistica senza palla ero come Zico vero? ero bravissimo bravo vero è un altro oggi assegnato il Vesino che se tu lo dovevi giudicare nelle partite in cui dovevi avere possesso 5 senza palla però si faceva trovare e faceva dei gol importantissimi sempre 1-0 i minuti passano e l'Inter deve cambiare un po' il ritmo soprattutto andare in aria di rigore con più decisione con più convinzione vedo che comunque l'assetto Sanchez dietro sia andato bene tante volte è stata la chiave mi convince un po' meno Arnautovic quindi gioca tu dici Sanchez a trequartista tra le linee con Arnautovic e Lautaro coppia d'attacco questo ha portato spesso frutti non mi convince invece Arnautovic che subito come entrato ha perso subito un pallone speriamo che insomma quest'anno ha dato eppure che sul mercato sembra più sacrificabile Sanchez di Arnautovic ma per una questione semplice perché Sanchez va a scadenza e quindi non devono mentre Arnautovic ha il contratto come Correa attenzione Aslani che lancia nello spazio Carlos Augusto la mette in mezzo deviazione in calcio d'angolo quindi calcio d'angolo per l'Inter dicevo quindi Correa se il Marsiglia non vince l'Europa League quindi non va nel mega girone di Champions Correa torna indietro anche perché il Marsiglia è distaccatissimo tramite campionato in Champions il Marsiglia non ci va e quindi l'Inter con Correa Arnautovic vorrebbe prendere comunque una quarta punta un po' una lataremi per alzare il livello delle alternative ma dovrebbero poi partire Arnautovic e Correa o provare a fare un po' di di cassa calcio d'angolo per l'Inter palla che spiove in aria ancora la respinta di Cumbulla credo in questo caso Erlich comunque di testa ancora fanno valere i centrali difensivi del Sassuolo la loro stazza e l'Inter che ci deve riprovare ripartendo da dietro 20 minuti ne mancano ancora comunque 25 più recupero certo che i ritmi sono viene da dire balneari anche se a Milano la primavera nemmeno la primavera è arrivata sta pressando l'Inter sta pressando si pressando chiamalo pressing so che sei abituato a un pressing un po' più lento noi lo facciamo proprio noi siamo abituati ad altri ritmi sono state settimane di festeggiamenti anche se Inzaghi prima della partita ha visto ha parlato e ha detto negli ultimi tre giorni ci siamo allenati seriamente quindi vogliamo assolutamente anche per la correttezza del campionato perché pensate alla situazione paradossale in questo momento il Sassuolo è a 29 6 punti l'ha fatti con l'Inter dai in questo momento immagino l'umore dei tifosi attenzione Arnauto vicinario di rigore se la porta sul destro e rispondimi una volta alle critiche che ti faccio mai respinto in fallo laterale no dicevo immagino che i tifosi delle squadre che sono in lotta con il Sassuolo in questo momento non è che l'Inter sia simpaticissima per quello che sta nel senso sportivamente parlando l'Inter che non aveva ancora vinto il campionato poteva andare a vincere a Sassuolo portando via punti importanti anche in chiave salvezza così facendo con l'Inter che eventualmente dovesse perdere è chiaro che la lotta a salvezza prende un'altra piega non è Verona tra l'altro per me non finisce così come Marcello? per me non finisce così per me l'Inter me lo auguro ora è vero che l'Inter ha alzato ancora di più il baricentro siamo sempre sulla tre quarti col Sassuolo tutto dietro Quadrado che è un altro che dovrebbe aiutare a creare la superiorità come Sanchez Bastoni lo spiovente in aria Arnautovic nemmeno di test ragazzi ma era De Vrijlich al centro aria Carlos Augusto Lautaro che viene fuori dall'aria di rigore la mette in mezzo pericolosamente le spinge con i pugni consigli palla verso Arnautovic che con la sponda potrebbe essere insomma un fattore mettere questi palloni alti in mezzo ci sta insomma la scelta per questo motivo però poi la deve prendere lui invece la stanno prendendo Erlich la sta prendendo addirittura Gumbulla ripescato oggi Sassuolo che recupera palla a centro campo ora con l'Oriente anticipato e quindi Inter no fallosamente dice l'arbitro no no nessun fallo infatti mi sembrava molto sul pallone l'intervento e così è e quindi l'Inter può andare in avanti ancora con Quadrado Frattesi Frattesi che adesso deve stare un po' più dietro aiutare Aslani perché è uscito Michi Italiane quindi sono solo loro due e poi tutta attrazione offensiva l'Inter con Quadrado a destra Sanchez trequartista Arnautovic Lautaro e dall'altra parte Carlos Augusto per me potrebbe arrivare anche l'ingresso di Buchanan tra un po' a sinistra che finora sei spezzoni tutte e sei le volte sempre a sinistra deve ancora diciamo calarsi un po' nel ruolo perché fa solo fase offensiva ma qui c'è bisogno di fare la fase offensiva quindi il suo dribbling può essere utile spinto del suo suono mi sembra che si sia assai ridotta la propulsione che deve fare povera ritirato all'indietro entra proprio Buchanan ci ha sentito Inzaghi e credo che chiamerà Carlos Augusto quindi Carlos Augusto esce entra Buchanan e giocano Quadrado Sanchez Lautaro Arnautovic e a sinistra Buchanan non c'è ancora stata la sostituzione sai che era Ducanan Ducola D sì quello che ha ucciso Versace ah attenzione brutto riferimento quindi no ma no mi è venuto in mente lui invece lo chiamano TJ perché si chiama Teijon e quindi anche Inzaghi DJ TJ non è ormai DJ non DJ ma con la T ora c'è Quadrado qualquanto potrebbe fare riferimento a Mitch Buchanan che era un altro personale è un'altra cosa quella è un'altra cosa tutte le miniscenze che avete non viene in mente niente chi? no dico avete tutte queste miniscenze su Buchanan Buchanan lui è il primo canadese ecco una curiosità primo canadese in serie A americani ne abbiamo visti canadesi no attenzione a Lautaro troppo lunga la palla di Quadrado che si dispera non era male l'idea ma troppo forte il passaggio Lautaro fa ok ma non è riuscito a tenere questa palla in campo ci sono due cambi entra anche Barella oltre a Buchanan vediamo chi esce mi sembra Bastoni e quindi Carlos Augusto non esce dovrebbe andare a fare il terzo dietro Buchanan a sinistra l'altro è Barella a questo punto esce Frattesi credo vediamo un po' sì Frattesi sì Frattesi Frattesi perché Frattesi non è proprio il suo ruolo di fare il regista dietro con Aslani quindi adesso Barella e Aslani dietro i due esterni molto offensivi Carlos Augusto nei tre di difesa più offensiva di così non la può mettere Inter che ci proverà 20 minuti 21 minuti più recupero c'è sempre Turam da buttare dentro volendo c'è sempre Turam ma è vero perché c'è il quinto cambio e lui li fa sempre tutti i cinque cambi non hanno una finale di centri no come sei perfido Marcellona mi ricordavo l'anno scorso è l'anno scorso confuso la stagione o confusino infatti quando l'ho visto le tre di dove giocare in finale invece è vero che il Dortmund comunque tutti la cenerentra cenerentra ha fatto un altro partitone sì ma il Real Madrid penso che no no io dico dalla parte del Parigi ma verso la sedicesima guarda no no è già sedici se ha quattordici è quindici quindicesima non perso il conto almeno l'inicio è una ogni due non lo so non ne ha dodici no no ne ha quattordici 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 ne ha vinte tante comunque ne ha vinte tre Zidane e due Ancelotti quindi Ancelotti ha vinto la decima poi tre Zidane e poi Ancelotti come è? questa è la terza Ancelotti eh sì ne ha vinte due col Milan e due col Real quattro coppe campioni da allenatore più quelle da giocatore sta per entrare Obiang altro giocatore che alcuni anni fa no Obiang giocava dalla Samp sembrava un giocatore che potesse fare un altro tipo di carriera esce il giovane Lipani che non si è comportato male classe 2005 ne aveva parlato bene ieri Ballardini e poi gli era data la fiducia oggi ha risposto presente ora entra Obiang tanta fisicità corsa un sassuolo che deve tenere botta per questi 20 minuti sempre tutto dietro con Pinamonti l'unico riferimento davanti e Leorente che quando prende la palla prova a prendere qualche punizione qualche fallo qualche ripartenza e ora Obiang proverà a dargli una mano Inter che manovra con Carlos Augusto entriamo negli ultimi 20 minuti 19 più recupero ora anche Barella Biucanan sulla sinistra attenzione a Biucanan uno contro uno vediamo se riesce a saltare l'uomo se la porta sul destro cross deviato palla che arriva quasi a quadrato poi spazza ancora il sassuolo Inter che deve ripartire con Pavard che viene pressato da Lorente che sta correndo tantissimo vediamo se guadagna il fallo laterale Pavard Ballardini dice è nostro Lorente ride ma il fallo laterale è per l'Inter che quindi può tornare subito di là tanto possesso però alla fine se devo pensare alle parate di consigli niente ti rimporta che se domani il Milan vince zitto zitto va a meno 18 che osservazione acuta anche meno 16 anche meno 16 se l'Inter perde esatto meno 16 se l'Inter perde meno 16 ma la poca è finita attenzione a quadrato che punta l'uomo entra in area di rigore doppio passo triplo passo passo doble ancora Sanchez danza anche lui Cile-Colombia ma dobbiamo sfondare è una discoteca questa Sanchez-RJ poi c'è TJ TJ che mette questi doppi passi se riavano i giochi eh no tu lo conosci bene qua in quadrato abbiamo detto prima gran ballerino grandissimo ballerino si è offeso qualche Juventino si è offeso perché ha osato saltare a un coro chiamato da tutta piazza Duomo non ci faccio più caso in 200.000 gli hanno chiesto di fare un saltello l'ha fatto ragazzi siate più buoni ha scritto tra l'altro la vostra di storia la nostra per niente è vero ancora ancora ho la maglia al museo in generose infatti hanno chiesto di togliere togliere tutto questo estremismo da parte del tifo non è che lui se ne è voluto andare l'hanno mandato via non gli hanno ridotto quello che ha dato quadrato la Juve ha dato tanto ha fatto anche gol decisivi ricordavamo prima quello del derby quello niente è stato decisivo non era uno che si sottraeva tanto il tempo stringe e allora anche Arnautovic viene dietro dice magari posso fare qualcosa anch'io dai Arna dai una volta avevamo arma letale Crespo si è trasformata in Arna letale però è stato poco letale quest'anno per le difese avversarie ancora quadrato il cross questo è buono per Lautaro che viene però anticipato ora consigli esce con i pugni prova a andare l'Inter in avanti gli fischiano fallo in attacco a Pavard che ci sta provando a dare una mano agli attaccanti ma ancora buon gioco Cumbulla è la difesa del Sassuolo tra consigli Cumbulla se la cavano partita che sta poscivolando via il tifo dell'Inter numerosi a Reggio Emilia arrivati i tifosi dell'Inter che continuano nella festa entra Klassen non Turam quindi l'ultima carta che si gioca in Zaghi è Klassen per Aslani ho poco più di 10 minuti recupero compreso per l'Inter per provare a ribaltare le sorti di questa gara con il Sassuolo che mi sembra che ormai tutto dietro ha parcheggiato il pullman ora Quadrado è Klassen bisogna trovare il pertugio come si diceva una volta Barella sinistro destro vediamo se è crossa no la dà a Quadrado che va sul fondo il cross è buono il tiro deviato ancora un miracolo di feca con Cumbulla stavolta molto bravo in scivolata perché qui secondo me la palla andava dentro sul cross di Quadrado è andato Arnauto viciscivolata e Cumbulla ancora più bravo di lui non l'ha anticipato ma è riuscito a respingere in angolo quindi calcio d'angolo per l'Inter ancora Sanchez che mette in mezzo per Arnauto vici anticipato ancora di testa e quindi Klassen deve recuperare questo pallone il tempo stringe 8 minuti e 20 secondi dai ragazzi dai la seconda sconfitta col Sassuolo no non mi piace ma che te ne frega me ne frega me ne frega ma perché? è perché il Sassuolo ci ha dato tanti dispiacere una volta che possiamo dargliene uno decisivo ah in quel senso lì caliamo le braghe così col Sassuolo no ancora Buchanan a sinistra TJ 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 punta l'uomo lo supera se ne va è saltato dal nome che anche Marcello lo chiama e qui dice mette i dischi TJ dai TJ a sinistra con quadrado a destra interavvolgente adesso con ancora Buchanan a sinistra punta l'uomo vediamo se la porta sul destro il cross è buono si abbassa Arnauto vici si abbassa Arnauto vici perché ti abbassi caro ragazzo non ti ascolta non mi ascolta però ma veramente Arnauto vici a volte irritante perde palla ancora l'Inter ora in attacco può ripartire Lorente contro tutti perde palla e allora l'Inter bravo qua Pavard Caparbio supera anche l'uomo e ora prova a metterle in mezzo male però aveva fatto tutto bene ora respinta ancora del Sassuolo 7 minuti al termine secondo me non è veramente più da un pezzo devo dire che mi sembra che con grande per il mondo con grande orgoglio sta cercando di restare raggrappato a questa partita perché ribadiamo per ragione di classifica sarebbe vitale assolutamente vitale però onestamente l'Inter in questo momento sta provando ad alzare leggermente i giri del motore e si è definitivamente parcheggiata nella metà campo del Sassuolo anche se poi dice bene Michele non è che consigli abbia fatto chissà quali miracoli a livello di occasioni da gol poca roba però io Turam in campo l'avrei messo ti dico veramente i tiri totali 5 a 2 fuori ma se vedi in porta addirittura 2 a 1 Sassuolo è vero che anche i due tiri del Sassuolo siano stati grandi parate però consigli niente è un dominio territoriale tanti palloni che spiovono in aria ma spesso li prendono con bulla ma ti parlo almeno 10 minuti fa ho visto la statistica sui passaggi fatti 150 il Sassuolo 540 l'Inter una roba del genere quindi adesso probabilmente i numeri saranno ancora maggiori però bisogna andare a tirare da fuori aria troppo vogliamo arrivare col pallone dentro la porta adesso secondo me è arrivato anche il momento di fare qualche tiro anzi bisogna farlo prima però adesso magari provare poi devi avere anche i giocatori che hanno quel tipo di abilità ci sarebbe non c'è in campo c'è la Noglu che però non è non è in campo Barella comunque qualche tiro da fuori Barella sì attenzione palla per Arnautovic vediamo se inventa qualcosa la dà l'indietro per Lautaro il tiro di sinistro troppo alto la colpisce male questa era una buona una buona occasione la palla da Arnautovic era scattato in posizione regolare si gira la dà l'indietro la dà troppo non è che la dà proprio bene però alla fine arriva a Lautaro che di sinistro la calcia male la messa lì eh sì la messa lì forse è un po' lenta come palla però alla fine Lautaro può tirare e la tira malissimo entrano Racic e Missori deve far respirare un po' qualcuno eh sì che adesso boccheggiavano e beh Missori togliano quindi non cambia niente centrocampista per centrocampista Racic per Matteus Enrique e Missori per Tolian anche qui terzino destro per terzino destro quindi non cambia il Sassuolo tutto dietro ovviamente è giusto anche così cioè il Sassuolo che deve provare a difendere a oltranza e questo è il terzo e il quarto cambio erano entrati Boloche o Bianchi quindi due centrocampisti adesso ci prova ancora con un ultimo centrocampista un terzo centrocampista e un terzino destro stremati evidentemente i due sostituiti Matteus Enrique e Tolian a destra stavo controllando di Missori un po' ricordo quest'estate che si era parlato tanto di giocatori con la Roma lui è un 2004 attenzione al break del Sassuolo con Lorente che però poi alla fine viene anticipato viene anticipato quindi nulla di fatto no alla fine l'ha comprato dalla Roma due milioni e mezzo Missori il vivaglio della Roma era quello di scambi che faceva con Tiago Pinto eh sì sì tanti tanti Volpato ce ne sono stati diversi mentre l'Inter aveva dato Mulattieri nell'operazione Frattesi e Mulattieri il Carnavali disse siamo amici eh sì però facciamo dei favori di amici non vorrei sentire questa frase in questi giorni erano amici e lui la disse io ti riferisco questa è quella buona barella troppo alta ancora corpo all'indietro palla che salta prima di colpirla e va alle stelle tre minuti di gioco manca pochissimo Inzaghi che prova a dare ancora un po' di indicazioni petto in fuori invece Ballardini c'ha una postura guarda io non so la schiena dritta Ballardini dice eh petto petto testa e poi tirare tirare ma come tirano se non sono mai arrivati del di là no spazzano 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 tira spazza perché qual è allora questo è spazzare e questo è tirare guarda la differenza bravo in questo momento è molto più funzionale per il Sassuolo spazzare che tirare sono tutti lì dovevano tirare Sassuolo che giustamente fa quello che deve fare una squadra che si deve salvare l'avesse fatto qualche giornata fa magari avrebbe avuto qualche punto in più era un colabrodo e qua è preoccupante anche il fatto che l'Inter non abbia segnato dopo 42 partite consecutive un altro record che se ne va un altro record che spensa nel campionato si fermerebbe del record 35 mentre le partite consecutive totali 42 ce l'ha Allegri a 44 e quindi dai ragazzi che si può segnare l'1-1 almeno il pareggio per continuare a tenere vivo c'è TJ c'è TJ che se ne va sulla sinistra punta Missori il neoentrato Missori Buchanan alla fine va indietro da Klassen scambiano Buchanan Klassen Buchanan crossa bene per Arnautic che come sempre dovesse mai staccare Arnautic con i piedi in piedi è passata di 30 metri ma almeno salta ma che salta fai? giustamente perché se salta poi inizia la colpa di Arnautic oggi stasera perde perché è colpa di Arnautic no no ma ce l'ha l'ha preso di mira ha sempre quell'approccio che non gliene un po' me ne freghista lui c'ha questo questo sguardo alla Ibra ma non se lo può permettere senza essere Ibra capite? inizia con lo sguardo lo sguardo ma anche a volte capito quando tu entri sei fresco vai a fare un po' di pressing l'hai mai visto in pressing? mai pensa che fosse rimasto Paolo Maldini l'ha praticamente già fatto Arnautic sì è vero è vero è vero è vero aveva mercato perché ci ha provato la Roma intanto Pavara a Monito ci ha provato anche a un certo punto pure il Manchester United ma guarda se fosse rimasto Maldini l'ha già fatto la cosa con lui e con Bologna però devo dire che il dubbio che si aveva sulla fragilità quest'anno è stato confermato però ne ha avuto ogni forte ma l'anno scorso ha avuto sul piede dicevano però non sono muscolari quest'anno due muscolari io per quanto è stato fuori un bel po' sì una volta un mese e mezzo una volta un mese più poi sei una stazza che per andare in forma ha bisogno di giocare un po' come Manzucic ricordo intanto qua parlando parlando siamo al novantesimo e il tempo scorre inesorabile però ha bello schema palla persa ad alza solo su questa punizione non so quanto credesse in questo pallone in mezzo lanciato ad Audero più che un compagno buttato lì a caso e allora TJ che può ripartire subisce fallo qui c'è il giallo per il fallo su Buchanan infatti è così Boloca che un po' un'azione da rugby si aggrappa a Buchanan quindi altro ammonito dopo Pavard 90 minuti vediamo quanto recupero da l'arbitro saranno 4 minuti eh sì non è che 3-4 minuti giusto per i cambi perché altrimenti grosse interruzioni non ci sono state infatti sono proprio 4 sono proprio qua abbiamo indovinato il recupero perché calcolando le sostituzioni alla fine sono quelli dai ragazzi dai 1-0 col Sassuolo Inter ha 10 vittorie e 9 sconfitte con questi qua pensa un po' 10 vittorie e 9 sconfitte questa sarebbe la nona sarebbe la decima quindi 10-10 quindi 10-10 è partito tutto con 2-7-0 per l'Inter poi Squinzi disse il mio sogno è mettere il quadretto nell'ufficio con l'Inter col Sassuolo che vince a San Siro 1-0 detto fatto presidente milanista che ci teneva tanto a battere l'Inter è nata questa tradizione negativa vediamo però adesso di mandarli in B un pareggio sarebbe importantissimo Carlos Augusto il cross palla al centro peccato c'erano 2 sul secondo palo palla che è corta ancora che l'Inter però no fallo laterale fallo laterale punizione però per il Sassuolo questo è sicuro quindi Sassuolo che può ancora ripetere per vendicarsi dopo tutte queste gol l'Inter ha perso pure l'anno dello scuetto del Milan ha perso 3 punti col Sassuolo è vero che l'ha perso pure il Milan però se tu battevi il Sassuolo invece no invece no ed è successo tante volte quindi dovrebbe restare in Serie A così il prossimo anno sappiamo che qualche punto ve lo fa perdere 6 punti ma tu mettiti nei panni del Frosinone l'Udinese a livello di lotta per la salvezza sicuramente potrebbero essere 3 punti che pesano 6 su 29 sono più del 20% bello anche questo schema del portiere sì però sai Michele alla fine le altre squadre concorrenti con il Sassuolo non è che hanno tanto da attaccarsi all'Inter perché comunque l'Inter ha giocato cioè non è che ha lasciato perdere la partita ha perso 2 a 0 no no ma è vero l'Inter ci ha provato ha fatto molto tour alla fine il secondo tempo avrà avuto l'80% anche forse un pochino di più scusami le prossime delle inter ricordamelo un attimo va Frosinone in casa la Lazio e poi va Verona è capito anche Frosinone e Verona teoricamente il Verona l'ultima giornata si ritrova l'Inter Verona-Inter in casa con l'Inter che c'è adesso io non e zitto zitto il Milan può andare a meno 12 tu speri tu speri che poi passi alla storia come alla fine non erano così tanti punti passa la storia al Sassuolo perché va in B lo stesso però battendo l'Inter però ha vinto due volte l'Inter che fa ridere molto ma ti è abbastanza beh in questo momento sì di fatto è l'unica squadra che sta battendo l'Inter tra l'altro le uniche due sconfitte con la stessa squadra la gente avrebbe avrebbe dell'incredibile neanche la Juve c'è riuscito ti conferma la bestia nero-verde nero-verde punizione per il Sassuolo un minuto e mezzo dalla fine e l'Oriente che ne ha conquistate diverse di punizioni poi tutte sprecate dal Sassuolo però si è dato da fare l'Oriente ricordo quella partita che con la Juve 4-2 sì 4-2 che era un demoniato che c'è quel gol ti ricordo ma il Sassuolo con le grandi ha sempre fatto grandi partite l'anno scorso o due anni fa vinse a Milano due volte e con la Juventus fuori casa e ha questa poi c'è un cinese un bambino cinese con la bandiera del Sassuolo strano i cinese in genere dovrebbero stifare Inter punizione per il Sassuolo siamo nell'ultimo minuto ormai prima partita dell'Inter senza gol dopo 34 giornate vediamo se c'è un'ultima azione dell'Inter ma la palla ce l'ha il Sassuolo in zona d'attacco punterà a tenere palla fino alla fine fino al fischio dell'arbitro vediamo se l'Inter recupera questo pallone e prova a buttarla in avanti per l'ultima volta punizione per l'Inter ci sono 22 secondi tutti avanti tutti sotto ma l'arbitro dice no posizione sbagliata credo che si riesca ad arrivare in questi 15 secondi per l'ultima volta anche la panchina dell'Inter no questa è quella del Sassuolo c'è tutta la panchina del Sassuolo in campo praticamente per cercare di soffiare per tenere la palla quanto più lontana possibile credo che finirà qua l'arbitro e il fischietto in bocca Marchetti finisce qua il Sassuolo per la seconda volta quest'anno batte l'Inter che resta 89 punti 1 a 0 il gol di Lorente al ventesimo dovrei dire clamoroso al MAPEI stadio clamoroso al MAPEI beh dai ci sta ci sta perché di fatto l'Inter che perde la sua seconda partita in questo campionato e per la seconda volta contro la stessa squadra cioè il Sassuolo che ha fatto 6 punti su 6 contro l'Inter pensate davvero quanto è strano il calcio era a settembre il Sassuolo batteva l'Inter 2-1 a San Siro dopo aver battuto 4-2 la Juventus poi ha infilato una stagione veramente drammatica e adesso a 4 giornate alla fine faceva acqua assolutamente sì guarda solo a Firenze una settimana fa come è successo anche questa era una serie positiva l'imbattibilità dalla sesta giornata alla 34esima erano 28 il record dell'Inter era 33 lo stava quindi i gol fatti è finita la serie la serie di imbattibilità è finita pure questa per i Cliccitti c'è una partita in meno e in più c'è l'ultima possibilità le deve vincere però tutte e tre per superare l'Inter di Mancini a 97 arriverebbe a 98 ma ci tieni? ci tieni? ma che te ne frema vivi felice mi farebbe sorridere però scusa ma è giusto non gettare la spugna siccome c'è Sassuolo Cagliari la penultima ragazzi amici amici prego grazie Sassuolo gioca a Genova col Genua e a Roma con la Lazio e ha il Cagliari in casa quindi ho in tutta onestà Udinese compresa che ha gli stessi punti non è che possono molto avercela con l'Inter perché non è che ha spostato certo ha ripescato un pesciolino che stava andando a fondo che oggi si avesse perso era finita spannometrico va a fondo uguale non lo so non lo so neanche io per carità di Dio però comunque rimane dietro sì sì no questo è poco mai sicuro per chiudere il tema Inter così poi ci dedichiamo alla Juventus che domani gioca vuoi vedere la classifica aggiornata mentre voi due parlavate noi l'abbiamo già vista e commentata non mi sono distratto no ma è lui che è distratto vi siete distratti no ma io l'ho visto parlavamo di Robattinetti cartellino giallo a te e a lei vedi che avevo ragione io cartellino giallo a te e a lei che zitto zitto può andare a meno 16 non 18 ah no 18 16 invece sarebbero 16 no a me interessava più la zona retrocessione comunque rimane veramente tutto aperto tutto sì sì da Sassuolo 29 a volendo il Lecce 36 comunque sono 6 squadre la Sassuolo 3 è già aritmeticamente in Serie B e va bene dai chiudiamo il capitolo Inter gli up and down di questo Sassuolo Inter Michele allora salvo bisogna ancora di un paio di minuti salvo con un 6 e mezzo che tragedia tutti e tre Bastoni De Vrij e Sanchez che è stato uno dei pochi chi è davanti ha provato a fare qualcosa diciamo di intelligente a livello anche di giocate poi sì forse Biucana nel 6 ma questi tre quindi Bastoni De Vrij che è tutto dire dovevi fare l'assedio due difensori tra quelli che hanno fatto meglio Bastoni De Vrij e Sanchez mentre scendono resta Dunfriss con il 4 e mezzo del primo tempo resta lì e poi le punte Lautaro 5 e mezzo all'ottato però poco efficace anche il tiro alto e 5 Arnautovic che quando entra non se ne accorge nessuno con tutto quello che gli hai detto dovevi fare un voto ancora più basso no perché ha avuto comunque poco non è che ha avuto no insomma mezz'ora è vero mezz'ora però gli do 5 5 Arnautovic 5 e mezzo Lautaro e 4 e mezzo Dunfriss hai tenuto 4 e mezzo da Dunfriss e vabbè però l'hai persa perché lui ha fatto veramente quell'ingenuità su Doig e quindi resta negativo poi è stato anche sostituito Dunfriss secondo me risente un po' della situazione di De Vrij dell'anno scorso due anni fa che non sa il futuro perché Dunfriss se non rinnova l'Inter lo vuole cedere perché va un anno dalla scadenza lui magari si sta guardando intorno prima ha fatto una richiesta alta l'Inter gli ha detto di no perché prende 2 e mezzo la richiesta era intorno ai 5 adesso dopo i festeggiamenti non ha avuto grandi corteggiamenti si accontenta anche di una cifra di Marco intorno ai 4 che era più o meno l'offerta dell'Inter con i bonus vediamo vediamo però insomma anche lui l'europeo deve un po' decidere perché altrimenti parte una serata sport sì giuste motivazioni no perché la squadra a parte i primi 20 minuti dove l'approccio non è stato non è stato buono poi ci ha provato ci ha provato il primo tempo chiaramente avremmo meritato di pareggiare il gol annullato la situazione di Dunfriss l'altro colpo di testa insomma ci abbiamo ci abbiamo provato il secondo tempo siamo stati un po' un po' più sporchi tecnicamente e dovevamo essere più bravi a far girare la palla però mi hanno fatto insomma anche i meriti a Sassuolo che ha fatto si è difesa molto bene ha impattato la gara meglio di noi hanno fatto insomma su una nostra disattenzione un gran gol in apertura e poi l'hanno 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 difeso noi chiaramente siamo dispiaciuti per per la sconfitta perché insomma ci tenevamo a passare i cento punti ci tenevamo insomma era dall'anno scorso col Monza che segnavamo sempre quindi ci dispiace ma i ragazzi con un po' di disordine non con la stessa tecnica di sempre ci hanno provato fino alla fine prego Massimo Bocci del Corriereo Sport buonasera ma in mente se vorrei immaginare le sconfitte contro il campionato che adesso per fare il numero andate intorno sì ma in questi in questi anni insomma l'Inter avevamo perso anche il primo anno in casa insomma nel Sassuolo è una squadra è una squadra di qualità che quest'anno insomma sta faticando ha sofferto tanto insomma l'assenza anche penso a Berardi che è un ottimo giocatore che per loro è importantissimo insomma probabilmente era il destino di perdere due partite contro di loro ma come ho detto prima vanno fatti anche i complimenti perché si sono difesi bene ad oltranza sono stati organizzati quindi complimenti a loro altre domande? prego prego per me no perché abbiamo cambiato tanto poi chiaramente c'è come in tutte le squadre giocatori che hanno giocato di più di meno poi abbiamo cambiato quattro giocatori non abbiamo cambiato cambiato tanto poi sono entrati altri secondo me stasera a parte i 20 minuti un po' tecnicamente dovevamo far meglio ma la squadra ci ha provato fino alla fine e abbiamo festeggiato tanto in questi giorni ma gli ultimi giorni l'avevo detto nel pregare avevo visto la squadra concentrata che voleva la vittoria e purtroppo non è non è stato così però i ragazzi si sono impegnati fino al 94esimo altre domande? grazie grazie grazie